gli ottimi affari per la bilancia questa è una classica domenica da dedicare ai piaceri della vita e della buona tavola non esagerate, voi siete il segno della moderazione e dell'equilibrio quindi non potete proprio esagerare anche se Giove nel vostro segno ogni tanto vi fa fare dei grandi, non piccoli, dei grandi strappi alla regola però insomma cercate di appagare i vostri sensi ma con moderazione Giove è tuo mio andiamo allo scorpione